Finalmente dopo tanti anni posso togliermi da dentro quel rospo che mi porto proprio con rammarico, perché quel giorno l'Italia, il mondo sportivo ha fatto una delle più grosse ingiustizie che nello sport si poteva fare e mi ricordo e ho in mente come se fosse oggi, quando entrai nella stanza di Merckx e lui stava straiato sul lettino con la maglia rosa sul letto, con le zollette di zucchero sul comodino e piangeva come un ragazzino. Permisi di entrare in quella stanza solo a me e Franchini, poi a distanza di un po' entrò anche Sergio Neri e mi diceva proprio piangendo, Vito lo sai non è possibile, io non ho bisogno di quella roba. Quando poi invece è venuto fuori il risultato di questo doping, addirittura con una dose eccessiva in una tappa che è stata la tappa dove siamo andati il più piano di tutto il giro d'Italia, abbiamo fatto 30 all'ora dopo una cronometra, quindi addirittura prima dell'arrivo ci disse a Merckx, Eddie la fate la volata oggi, no no non possiamo incattivire gli avversari, abbiamo una maglia rosa, abbiamo vinto la cronometra, quindi no no siamo buoni oggi, perché ci stava una certa simpatia, perché a me viene sempre in mente Eddie Merckx quando tutti quanti lo chiamavano il cannibale invece con un gesto di sportività arrivava la tappa del genitore in Abruzzo mi ricordo e Eddie Merckx ha preferito perdere la maglia rosa in quella tappa abruzzese con la speranza che io vincessi, tant'è che tentai l'ultimo attacco per vincere la tappa di Silvi Marino e mi viene dietro Schiavon che era secondo in classifica a 12 secondi da Merckx, a Schiavon si accodò anche Colombo e quindi Merckx preferì perdere quella maglia rosa pur di vincere d'accordo, dopo l'arrivo mi ha battuto in volata, mi ricordo Colombo per mezza ruota e mi mise la mano sopra la spalla dopo che lui aveva perso la maglia rosa perché aveva perso 30 secondi circa, mi domandò se ce l'avevo fatta a vincere e quando gli dissi se no fece una smorfia proprio di rammarico, ma forse perché pensava più alla delusione di tutti i sportivi abruzzesi che a me stesso, allora ecco in questa immagine io non ho potuto sfocare quella verità allora perché non mi volevo mettere in mezzo a dei guai, a delle rogne e roba del genere, però ai sportivi italiani, nazionali, internazionali posso dire con certezza che Merckx è stato uno dei più grandi campioni che io ho conosciuto nella mia epoca, anche io come tutti diciamo all'epoca esistevano le anfetamine, anche se io non ero portato a prendere quella robaccia perché non avevo bisogno, perché ero un tipo già nervoso e sapevo dare tutto me stesso, però trattandosi di un campionato del mondo, piano piano mi convinti e dissi io ma prima o poi dovrò pur provare a vedere che miracolo fa questa droga, questo doping, queste anfetamine, quando mi ricapita più una fuga, stiamo in Francia, due francesi in fuga con me, dietro la squadra nazionale fa il gioco, dissi io me lo prendi, dietro una bella bottarella e lo bevi tutto, dissi io adesso sto sicuro e tranquillo che ci sa che succederà, vedi che dopo un paio di chilometri mi si addrizzavano i peli delle braccia, i peli della testa e quei due corridori che stavano in fuga con me li incominciano a vedere più piccoli, sempre più piccoli, dissi io che arriva con questo strappo di salita mi alzo dalla sella qui, gli è pianto i razzi in betto, dissi io ormai è fatta insomma vengo sicuro, vengo no? Intanto già mi cominciavo a vedere Rodoni che mi infilava la maglia irridata, vedevo tutte le feste, tutti i giornali, già mi immaginavo a De Zanne quello che gli dovevo dire, l'esaltazione, un'esaltazione, una cosa bellissima proprio, ero campione del mondo, ancora non arrivava all'arrivo, però io già ero campione del mondo, dopo ancora un paio di chilometri incominciai a lampeggiare con gli occhi, faccio così e non vedevo la strada, dissi io che sta succedendo qua? Fatta sta che a un certo punto mi arriva un panno davanti all'occhio e non ci vedevo più, mi ritrovai contro un guardarail senza che me ne sono accorto, non ce la facevo più, però piano piano andai all'arrivo a tendoni proprio perché la lucidità non era più quella del corridore vero, dopodiché siamo andati in albergo e poi dall'albergo tutti quanti e senti che aveva vinto Tom Simpson e secondo Adorni, poi prendemmo l'aereo per ritornare a Torino e mentre andavamo in aereo incominciò un'euforia dentro la mia testa, una felicità, una gioia che non ti dico, tant'è che guarda l'aereo stanno a sbatto, vai, non mi porta niente, arriviamo a Torino e presi l'ascensore sembra che andavo verso il paradiso, mi affacciai al balcone dell'albergo, sembrava che Torino, io ero il padrone di Torino, sembrava che Agnelli non era nessuno, proprio un'euforia, e poi verso le 4 della notte, dopo le 4 mi incomincia una depressione che fortunatamente riuscì a pensare di chiudere le tapparelle, di chiudermi dentro perché mi veniva una depressione proprio, voglia di buttarmi dal balcone, non lo so nemmeno io, però fortunatamente me la son cavata e la mattina poi sono ritornato con i piedi per terra e ho cominciato a ragionare su quelli che erano stati i miei errori. Dopo il Matteotti dovevamo fare il Giro del Lazio, mamma come a solito si preparò a farci una cenetta adeguata ai ciclisti, non so, riso in bianco, bistecca i ferri o pollo, quello che era, però solo che questi corridori che venivano con me, c'erano le magliette tutte bagnate, chiaro, avevano fatto la corsa e quindi di conseguenza mamma le prese per andarla a lavare, naturalmente noi eravamo usciti la mattina per andare a fare due passi, qualche chilometro di disintossicazione con la bicicletta, mamma ha preso queste magliette, l'ha andata a scullare, a pulire e dentro la tasca di queste magliette ci stavano ancora delle pasticchette evidentemente che non avevano adoperate i corridori o perché non avevano trovato la fuga o perché non avevano preso. Nel pulire le maglie mamma, al cortile dove c'erano tacchini, polli, aner e roba del genere, è chiaro che i polli, le galline si credevano che erano molliche di pane e a un certo punto hanno beccato tutte queste pasticchette. Dopo dieci minuti mamma vede scomparire davanti dentro a tutto il cortile tacchini, polli, tutti svolazzando, addirittura i tacchini che si andavano a posare sopra i fili dell'alta tensione, i polli sopra i pioppi e mamma è chiaro che quando sono tornato pii, 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 cercava di ristringere le galline dentro del pollaio e lì è successo un cinema che non ti dico. Addirittura poi quello che mi ha fatto più tristezza è che la sera addirittura c'è un cagnolino che ribatteva, diciamo così, quando uno ci buttava a mangiare e questi colleghi, i corridori, si erano divertiti a mettere dentro alla pallocchetta di carne, la pasticchetta di stenamina e la davano a sto cagnolino, sto cagnolino prendeva, a un certo punto era diventata una tigre, tanto è vero che l'abbiamo cacciata fuori. La mattina quando si è alzata mamma e ha trovato sto cagnolino morto davanti alla porta di casa con una zambetta davanti alla porta, beh, quello è stato penso uno dei giorni più tristi della mia vita, perché ero molto affezionato a quello del cagnolino e gli dissi io a questi colleghi, guarda che mi avete combinato e in quel momento è chiaro che mi ritornò in mente anche l'episodio di Tom Simpson sul Mont Ventum e nel pensare che quella disgrazia di Simpson che aveva vinto il campionato del mondo quando io mi ero drogato, che poi è morto in quella maniera, mi sono venuto veramente di perito che dico io guarda che roba che poteva succedere anche a me, ecco perché bisogna stare molto, ma molto attenti, perché la forza dell'atleta deve essere quella del sacrificio che si deve dedicare allo sport e non falsificare le prestazioni che per un momento di gloria possono veramente compromettere il resto della propria vita. Ecco perché io dico con rammarico, proprio grande rammarico, che lo sport in quella maniera è veramente triste e non vorrei mai vedere quel tipo di sport, ma mi piace vedere lo sport a livello del sacrificio dell'atleta, quell'atleta che dedica a tutto se stesso, che rinuncia alla discoteca, che rinuncia alla cenetta, che rinuncia a fumarsi una sigaretta, ma che dedica la propria vita e quando alza le braccia al cielo, le alza in segno di vittoria non perché ha bleffato nei confronti degli avversari drogandosi, perché prima di bleffare con gli avversari sta bleffando con se stesso e quel momento di gloria lo può pagare per il resto della sua vita.